ormai è assodato le aziende sono sempre più alla ricerca di talenti digitali se un'azienda pugliese il progetto next selezionato da fondo repubblica digitale impresa sociale lavora per te per trovare il giusto esperto digitale che rientra nei tuoi parametri next sa che la domanda di figure professionali come developer scrittori di codici ed esperti di marketing digitale è in costante crescita per questo ti aiuta a trovare il professionista che cerchi contattaci e avrai il talento digitale che fa per te al posto giusto al momento giusto